... Attenzione, sta arrivando Stefano Quante Storie, il nuovo film di Maurizio Nichetta. Chi è Stefano? Stefano è un pilota d'aereo. Però sua madre avrebbe preferito vederlo insegnare, un insegnante di matematica. Stefano voleva diventare un musicista. Suo padre invece sognava per lui una carriera da carabinieri. Stefano! Stefano! Stefano Quante Storie, il nuovo film di Maurizio Nichetti, con Elena Sofia Ricci, Amanda Sandrenbi, Caterina Silos-Labini e Milena Bursi. Stefano Quante Storie. Stefano Quante Storie, un film incredibile. Stefano Quante Storie, il nuovo film di Maurizio Nichetti, a febbraio nei migliori cinema. Servi tutti, questa è una rapina. Stefano Quante Storie. divisioni un film di Maurizio Nichetti. Stefano Quante Storie, un film di Maurizio Nichetti. mi hour